Città sempre meno vivibili, temperature sempre più estreme e ancora troppa poca sensibilità. Questa mattina, venerdì 3 marzo, i giovani della città di Pesaro e di altre 50 città d'Italia sono scesi ancora una volta in piazza per provare ad assicurarsi un futuro degno dei loro sogni, ma che sembra sempre più catastrofico. Una manifestazione che ha l'obiettivo di protestare e chiedere al governo di rispettare gli accordi di Parigi sulle riduzioni delle emissioni di CO2 dei combustibili fossili. L'inizio dei Fridays for Future, letteralmente venerdì per il futuro, parte nel 2017 da un'allora sconosciuta quindicenne di Stoccolma, Greta Thunberg, poi diventata icona planetaria. La sua protesta isolata, che prevedeva di scioperare la scuola ogni venerdì, diventa un movimento globale pacifista che ha come obiettivo quello di sensibilizzare ed essere ascoltati da tutti quegli adulti che sembrano non voler sentire. Noi oggi ribadiamo quello che diciamo da tempo, da anni, al nostro governo, noi chiediamo di investire sull'ambiente, sulla vita, sul nostro pianeta e non di investire sui combustibili fossili e su un modello economico che non funziona. Lo chiediamo con forza da tempo in tutte le città d'Italia e in tutte le città del mondo. Noi oggi saremo presenti contemporaneamente per fare chiedere questo ai governi italiani, ma anche europei e mondiali. L'obiettivo principale di queste manifestazioni e di ogni 3 marzo, che negli ultimi anni ha accompagnato il percorso di tante studentesse e studenti, è ribadire l'emergenza climatica. Penso che le nuove generazioni stiano chiedendo forte, ormai da anni, la responsabilità di noi adulti nell'affrontare queste tematiche e nel prendere delle posizioni forti anche con delle azioni concrete. Nel Comune di Pesaro, già da tanti anni, affrontiamo la crisi climatica con azioni sostenibili, a partire dalle scuole con la promozione di menù che hanno un impatto quasi zero sull'ambiente. E queste scelte vanno replicate anche nella nostra quotidianità. L'esempio di oggi, la partecipazione intergenerazionale di scuola primaria, anche di ragazzi molto più grandi, è stato un momento di incontro e di formazione preziosa e queste occasioni, queste manifestazioni consentono anche questo. Il movimento ambientalista è diventato un movimento di massa e la sensibilità è cambiata. Però purtroppo questa sensibilità sta cambiando le politiche in un modo molto lento e questa lentezza non possiamo permettercela quando il nostro pianeta e il nostro clima cambia così velocemente.